Un paio di cose fiorentine invece, toscane, c'è questo sciopero oggi dei treni in Toscana, insomma notizie, cosa ne pensa? Ma lo sciopero dei suoi treni? No, non so per cosa è motivato, io so che i treni non vanno, ecco, e ci sono grosse difficoltà, ma c'erano anche prima dello sciopero, è che i cittadini sono stufi, io credo che a livello nazionale è il governo che chi deve chiedere a Ferrovie di fare una riflessione e scriverò una lettera a Renzi e al Ministro del Rio perché, insomma, così non si può andare avanti. Ormai veniamo da un luglio disastroso sul piano delle efficienze e della puntualità dei treni. Noi come cittadini paghiamo regolarmente treni in Italia, abbiamo diritto ad una prestazione decente, cosa che invece negli ultimi tempi davvero non abbiamo avuto.